L'aeroporto Costa da Malfi, infrastruttura utile per il decollo del Vallo di Diano dal punto di vista economico e turistico. Ne è convinto l'assessore alla comunità montana Antonio Pagliarulo, che con l'ente presieduto da Francesco Cavallone, con Confesercenti Vallo di Diano e con il comune di Padula, ha organizzato l'incontro con i referenti di GESAC, ente gestore del sistema aeroportuale di Salerno e con i portatori di interesse del territorio ed in primis imprenditori e albergatori, oltre che referenti delle associazioni e istituzioni, per rendere partecipe anche il territorio a sud di Salerno delle opportunità che l'attivazione dell'aeroporto può offrire. Nel pomeriggio di ieri, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, moderato dalla responsabile di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Quino, si è svolto un incontro molto partecipato, raccogliendo anche esponenti del settore dell'imprenditoria ed istituzioni di Cilento, Alburni e Golfo di Policastro, per prepararsi al meglio all'attivazione dell'aeroporto sito a Ponte Cagnano, partendo dall'input lanciato dall'assessore Pagliarulo, che ritiene lo scalo aeroportuale una grande occasione per il Vallo di Diano e non solo. Oggi è un momento che io reputo importante proprio perché un aeroporto all'interno di un territorio o nelle immediate vicinanze del territorio è sicuramente un'infrastruttura che porta innovazione, porta ricchezza, valorizza quel territorio e lo rende facilmente più fruibile. Quindi è qualcosa sicuramente che porterà lontano questo territorio, così come recita il nostro slogan, nell'allenda ti portiamo lontano, che è quello del visit Vallo di Diano su cui noi stiamo investendo come territorio e come aree interne. È qualcosa ovviamente oggi straordinario, c'è una presenza fosta tra pubblico e privato, un momento in cui gli imprenditori locali si sono fortemente motivati, anch'essi per quanto riguarda l'apertura imminente dell'aeroporto Salerno-Costo da Maffi e quindi questo ci fa ben sperare affinché questo territorio possa continuare a crescere proprio sinergicamente sia dalla parte pubblica che dalla parte privata. Il Vallo di Diano sta attraversando un momento storico particolare e favorevole, non dobbiamo perderlo, gli imprenditori locali credo hanno capito questa circostanza e stanno investendo tantissimo insieme appunto alla parte pubblica che ovviamente cerca di stare loro vicini affinché loro possano investire ancora di più favorendone ovviamente il miglioramento ad un punto di vista aziendalistico e economico. Nell'introdurre i lavori l'assessore Pagliarulo ha illustrato le potenzialità dell'area e le opportunità offerte dalla vicinanza dell'importante infrastruttura, invitando il territorio ad attivarsi per essere pronto a sfruttarne al meglio le potenzialità, ricordando dunque quali sono i punti di forza del Vallo di Diano, ossia accesso diretto della rete autostradale, tempi di percorrenza da e per l'aeroporto inferiori ai 90 minuti, presenza di attrattori naturali, culturali, paesaggistici, enogastronomici e di relax e benessere, capacità ricettiva, ampia e diffusa, una DMO che promuove la destinazione turistica Vallo di Diano in modo unitario, presenza di un distretto diffuso territoriale del commercio, ha anche evidenziato cosa c'è ancora da fare affinché l'aeroporto sia fonte di sviluppo per il territorio. Per Pagliarulo è necessario organizzare la rete dei collegamenti su gomma da e per l'aeroporto, organizzare l'offerta territoriale turistica inserendo anche il turismo congressuale e scolastico, organizzare pacchetti calibrati per rendere fruibile tutto il territorio ai turisti, organizzare un'offerta destagionalizzata, organizzare una modalità di collegamento di tutti gli attrattori turistici valdianesi, fare in modo che il Vallo di Diano possa essere inserito nei circuiti promozionali di EasyJet e Volotea.